Questo mix di erbe profumate arriva direttamente da Langasco, questo perché stiamo per affrontare un tema molto attuale in tempi di sharing economy, quello dell'home restaurant a Langasco, c'è appunto l'home restaurant della famiglia Bottazzi, in rappresentanza viene a raggiungerci sulla nostra panchina, Luca. Buongiorno Luca, benvenuto, grazie dell'omaggio, non plureale ma altrettanto gradito, queste sono erbe che arrivano direttamente dall'home restaurant, dal vostro home restaurant. Sì, dal nostro orto, noi abbiamo deciso di adottare questa soluzione in quanto siamo appassionati di cucina e così abbiamo colto l'occasione per poterci mettere in gioco e per poter mettere a disposizione la casa nostra, proponendo ai nostri ospiti, che sono anche al di fuori della cerchia dei nostri conoscenti, cene o pranzi a base di alimenti genuini. C'è una grande attenzione nella scelta del menù, proprio nel chilometro zero e nel biologico. Sì, esatto, infatti parte degli alimenti che proponiamo arrivano proprio dal nostro orto, mentre invece altri, proprio perché non riusciamo a fare tutto, li reperiamo dai contadini della zona, però sempre selezionando i prodotti, facendo attenzione alla genuinità appunto degli elementi, in quanto noi riteniamo che si è quello che si mangia e di conseguenza facciamo molta attenzione appunto alla qualità del prodotto. L'home restaurant funziona un po' nel senso che una persona ha la propria cucina, la propria passione di cucinare e permette a ospiti che non sono solo gli amici o i parenti di partecipare a questa passione. In questo caso voi lo fate nella vostra casa di famiglia a Langasco, che tra l'altro è un posto bellissimo perché è immerso nella natura. Sì, sì, esatto, noi siamo in una casa nel verde, d'estate proponiamo ai nostri ospiti appunto di cenare anche fuori, all'aperto e uno, per esempio, noi abbiamo portato una rappresentazione di un esempio di centrotavola che di solito utilizzate, di erbe tra l'altro del vostro orto rigorosamente. La grande passione di famiglia che vi ha comune è quella della cucina, ci dicevi. Cucina tuo papà se non sbaglio? Sì, cucina mio papà e a volte anche io gli do una mano. La nostra cucina è tipica ligure ed emiliana in quanto le nostre tradizioni provengono dall'Emilia. Quindi ci direttiamo spesso anche nel fare pasta fresca o pasta ripiena e comunque tutti gli alimenti fatti in casa. Ecco, tra l'altro dando una curiosata ai menù dell'estate o le cose che avete scelto di portare in casa in questo periodo, ho visto che ci sono degli gnocchi all'ortica. Sì, esatto, ci sono degli gnocchi all'ortica. Infatti utilizziamo molto spesso le erbe dell'orto per poter produrre gli alimenti. In questo caso l'ortica è un alimento molto interessante in quanto ha delle proprietà benefiche e tra cui, per esempio, favorisce la produzione di succhi gastrici che consente di rendere più digeribile l'alimento. Oppure molte volte utilizziamo la salvia stessa per farla in tempura e servirla con altre verdure. Vabbè, la prossima volta, Luca, se torni magari se ce la porti già in tempura, così facciamo anche un aperitivo in panchina che non è una cattiva idea. Ma in ogni caso, grazie, ci vediamo a Langasco. Perfetto, grazie a voi, vi aspettiamo.